Il teatro in un minuto Un'idea abbastanza geniale Stata formativa per quanto mi riguarda Ultimamente ho allargato i miei orizzonti Giornata assolutamente positiva Approfondire cose che non conoscevo Ho trovato che questa iniziativa del teatro è molto valida Sono venute parecchie persone Che durata credo un paio di mesi Una fonte inesauribile di insegnamento Soprattutto possa suscitare la volontà di andare avanti Avere lo scambio tra chi opera nel settore Acquisire delle conoscenze tecniche Semplicemente sostenute Incontrare delle persone con delle idee Con un sacco di vitalità Con una gran voglia di crescere E si lavora per lo sviluppo della cultura teatrale Inizio di portare avanti le idee di teatro Ho acquisito molte informazioni interessanti Che possono essere trasprono per il mio lavoro A lavorare meglio, a promuovere, a comunicare E la rete, la collaborazione, la commissione E queste organizzazioni vanno caldeggiate E portate avanti con questi tutor magnifici Bisogna dare non fiducia alle persone Bisogna sostenere sulle loro professionalità È molto importante Ho avuto lo spunto per affacciarmi in un'altra realtà Quindi spero veramente che la giornata di oggi Sia l'inizio di un percorso Ho allargato la mia rete di contatti Ho l'occasione di avere a che fare con Dei rappresentanti di un territorio Di un tessuto assolutamente vivo, vivace Pieno di idee Erano interessanti, carini, spazi accoglienti, bella gente Perciò speriamo ci sia un reteatro 2 Mi auguro di incontrare presto È stata un'esperienza bellissima e vi ringrazio Vi ringrazio Mi auguro che anche questo appuntamento Si avvalca la pena di farlo insieme a due volte Pum! 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 Musica! 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 �!!! X Les Ov Em